Faccio una domanda, e se gli diamo il miglior giocatore che abbiamo? Se noi facciamo una scommessa, si vede per tutta l'Italia questo, in Rai 1, se Iguain va alla Juve e segna più di 15 gol, c'è mio nipote e mio erede questo qui, mi taglio l'uccello. Perché Iguain ha segnato 36 gol perché erano nel Napoli che giocavano, tutti per lui, ma non è un po' strunzi, se noi, se ne va pure, ci ne prendiamo la manata, perché tutti quelli che venivano a Napoli, venivano qui in mutante e se ne vanno in pantaloncino.